operazione file rouge scovato traffico di stupefacenti tra napoli e tutta la sicilia 10 arrestati 35 indagati e 50 denunciati caucana picchiano bodyguard fuori dal locale arrestati due comisani comiso viabilità disastrosa michele zisa denuncia il sindaco ride mentre comiso piange raccolta abiti usati a vittoria apparso un altro volantino stavolta nessuna parrocchia sacro cuore ma chi si cela dietro l'iniziativa calcio altra sconfitta per il comiso l'orlandina rifila 5 reti ai verde arancio buon inizio di settimana dalla redazione di free news apriamo la prima edizione del nostro tg con la cronaca importantissima operazione da parte dei carabinieri di ragusa le prime luci dell'alba di oggi insieme ai colleghi di catania palermo napoli e gela 10 li arrestati 50 i denunciati e 35 gli indagati nell'operazione che ha bloccato un traffico di stupefacenti da napoli a ragusa sentiamo è scattata alle prime luci dell'alba di oggi l'operazione denominata file rouge condotta dai carabinieri del comando provinciale di ragusa coadiuvati dai colleghi di catania palermo napoli e gela 35 gli avvisi di chiusura delle indagini preliminari eseguiti stamane nei confronti di altrettante persone molte delle quali già in precedenza arrestate in flagranza di reato e alcune ancora attualmente recluse decine le perquisizioni domiciliari e personali effettuate con l'ausilio di due unità cinofile per la ricerca di stupefacenti per tutti i reati ipotizzati e contestati di rispettiva competenza sono associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti traffico e spaccio di stupefacenti in concorso estorsione in concorso e rapina i provvedimenti notificati riguardano una complessa attività di indagine espletata dal nucleo investigativo dei carabinieri di ragusa avviata nei primi mesi del 2007 conclusasi a novembre 2008 l'attività investigativa coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di catania ha permesso di appurare l'esistenza di tre autonome e distinte organizzazioni criminali dedicate al narcotraffico operanti su tutto il territorio della provincia eblea ed in particolare nei comuni di modica comisù e vittoria collegate tra loro da una sottile linea rossa da cui il nome dell'operazione i tre gruppi avevano infatti tra loro sporadici contatti per approvvigionamenti estemporanei analoghi provvedimenti e perquisizioni sono stati effettuati in contemporanea catania palermo napoli e gela 50 le persone denunciate 10 le persone arrestate in flagranza di reato elevatissimo il numero di assuntori di stupefacente individuati 3 chili di ascisce 71 grammi di cocaina sequestrati anche se l'attività tecnica evidenziato che il giro e il quantitativo di stupefacente smerciato era molto più grande il traffico di stupefacenti da una stima approssimativa effettuata dal giro di affari evidenziato si aggirava nell'ordine di circa 20 mila euro settimanali dei complessivi 35 provvedimenti notificati 12 riguardano soggetti originari e residenti nella provincia di ragusa 2 sono originari e residenti a napoli 3 a catania 1 a palermo e 17 sono di origine magrebina tunisina e algerina residenti o comunque domiciliati a vittoria e a comiso ma allora vediamo in dettaglio chi erano e come operavano i tre gruppi coinvolti nell'operazione sentiamo smantellato stamani dai carabinieri di ragusa un traffico di sostanze stupefacenti che collegava alcune province della sicilia con napoli tre i gruppi che gestivano il mercato il primo era formato da soggetti catanesi e modicani quasi tutti già arrestati in precedenza per reati in materia di stupefacenti che rifornivano di cocaina spacciatori del comprensorio modicano e di comiso la cocaina che in codice in alcune circostanze veniva chiamata neve dell'etna veniva appoggiata a credito dal gruppo catanese ai pusher modicani che una volta venduto allo stupefacente saldavano il debito l'attività illecita fu riscontrata il 27 settembre 2007 dall'arresto in flagranza di Fabio Pagano e Maria Assunta Zini coniugi modicani trovati nella propria abitazione con 47 grammi di cocaina e 37 di hashish il promotore organizzatore del gruppo catanese anche dopo il periodo inerente all'attività investigativa ha continuato a smerciare cocaina ad agosto 2009 infatti è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di 14 grammi di cocaina appunto il secondo gruppo invece era costituito soprattutto da magrebini, tunisini e algerini che operavano in particolare sulla piazza di Vittoria approvvigionandosi di cocaina e hashish a Napoli e Padova e utilizzando come corrieri anche donne italiane nel luglio 2008 infatti i carabinieri avevano arrestato a Taormina mentre si recava a Vittoria Assunta Giannetti, 39enne napoletana, con un chilogrammo di hashish la cocaina proveniente da Napoli e Padova veniva trasportata nella provincia eblea da corrieri insospettabili incensurati, occultata negli orifizi maschili e femminili il terzo gruppo infine era capeggiato da un tunisino molto conosciuto in paese che da diversi anni vive a Comiso ed era costituito da giovani alcuni dei quali incensurati e di buona famiglia che smerciavano lo stupefacente, in particolare cocaina e hashish sulla piazza di Comiso cocaina che arrivava in ovuli dalla Spagna i pusher appoggiavano la cocaina a credito a vari consumatori comisani in particolare ai giovani studenti e se non ricevevano dopo pochi giorni il compenso pattuito per l'acquisto dello stupefacente si facevano consegnare impegno collanine, braccialetti e cellulari minacciendoli di gravi conseguenze se non avessero pagato il capo del gruppo era inoltre dedito punire chi non si atteneva alle regole tanto è vero che ad uno dei pushere che non aveva provveduto a smerciare con sollecitudine il quantitativo assegnato gli è stato incendiato per ritorsione il proprio quad due comisani sono stati arrestati dalla polizia per avere picchiato due buttafuori all'esterno di un locale di caucana sentiamo picchiano i bodyguard all'esterno di un locale arrestati due comisani sono stati tratti in arresto dalla polizia l'episodio è accaduto a caucana, frazione di Santa Croce e Camerina davanti a un noto locale gli arrestati sono Andrea Gambini di 31 anni e Gianluca Vitale di 28 i due giovani entrati all'interno del locale per passare una serata tra amici hanno avuto un alterco con un altro avventore sferrandogli un pugno ma gli addetti alla sicurezza hanno notato tutto e li hanno accompagnati fuori i due però non hanno digerito il fatto di essere stati allontanati ed hanno iniziato le minacce e buttafuori ma nonostante questo sono rimasti all'esterno del locale dalle minacce i due giovani sono passati ai fatti e si sono recati in auto per prelevare due grosse mazze di legno il tutto è stato notato da uno degli addetti alla sicurezza che prontamente ha chiamato il 113 i due comisani hanno saltato la recensione del locale ed hanno iniziato a prendere abbastonati due addetti alla sicurezza che si trovavano davanti al locale in loro aiuto sono arrivati altri due addetti anche loro sono stati colpiti ma sono riusciti a bloccare uno dei due giovani nel contempo numerose le chiamate al 113 da parte dei testimoni le volanti appena giunte hanno interrotto la condotta criminale dei due le hanno bloccati per portarli all'interno dell'auto di servizio nonostante uno di questi stesse provando a fuggire dal sopralluogo si è constatato che due erano i bastoni utilizzati della lunghezza di quasi un metro ed entrambi sporchi di sangue i quattro addetti alla sicurezza di un istituto di vigilanza di Catania sono stati medicati dal 118 intervenuto sul posto e successivamente dal locale pronto soccorso che li ha giudicati guaribili con una prognosi che va dai 7 ai 21 giorni rispettivamente dal meno grave al più grave dalla perquisizione personale veicolare è stato possibile rinvenire delle sostanze anabolizzanti e per questo motivo Andrea Gambini è stato denunciato per ricettazione di questi medicinali poiché li ha acquistati senza alcuna prescrizione medica al mercato nero ovvero provenienti da un altro delitto Controlli da parte del personale della squadra volanti un giovane è stato denunciato a Ragusa per guida in stato Debrezza Una denuncia è scattata sabato sera ai danni di un 27enne ragusano nello specifico gli uomini della squadra volanti hanno notato in via G di Vittorio un'auto il cui conducente stava guidando, violando alcune norme del codice della strada e procedendo a forte andatura mettendo in pericolo gli altri utenti dopo un breve inseguimento poiché il conducente non si è fermato nonostante l'altro intimato gli agenti sono riusciti a bloccarlo il forte alito vinoso e la guida irregolare hanno fatto subito apparire chiaro il perché il giovane aveva cercato di evitare il controllo sottoposto agli accertamenti il 27enne ha infatti risultato positivo all'alcol test superando del triplo il massimo consentito per lui oltre alla denuncia per guida in stato Debrezza sono scattati l'immediato ritiro della patente la relativa sospensione da 1 a 2 anni e il sequestro amministrativo per la confisca del veicolo che con la sentenza di condanna diventerà di proprietà dello Stato e sarà messo in vendita con asta pubblica la guardia di finanza ha scoperto a Vittoria una fabbrica abusiva di fitofarmaci sequestrati 25.000 litri di prodotti contraffatti scoperta fabbrica abusiva di fitofarmaci a Vittoria la guardia di finanza ha sequestrato 25.000 litri di prodotti e fitofarmaci contraffatti il settore è molto importante in tutto il vittoriese in quanto ad altissima vocazione agricola di qualità di tipo serricolo i finanziari hanno scoperto una vera e propria fabbrica di fitofarmaci e fitoregolatori in aperta campagna nel lago di Vittoria all'interno del capannone dove aveva luogo la vendita del dettaglio dei prodotti vi era un'enorme quantità di medicinali per l'agricoltura contraffatti o illegali i finanziari di Vittoria subito insospettiti dalla imperfezione delle etichettature hanno scandagliato l'intera zona nel contesto occultato da un telo all'interno del magazzino è stato rinvenuto un centro di confezionamento dei prodotti cisterne di fitofarmaci sfusi, barattoli vuoti tappi autosigillanti ed etichette adesive addirittura sono stati sequestrati coloranti utilizzati per raggiungere la medesima tonalità dei prodotti originali il tutto volto alla contraffazione dei fitofarmaci più diffusi sul mercato nell'area assolutamente sprovvista delle minime misure di sicurezza e prevenzione per i lavoratori venivano effettuati grandi sversamenti di prodotto chimico sul terreno con forti esalazioni l'attività ha quindi consentito di rinvenire e sequestrare una vera e propria fabbrica di prodotti con una catena di montaggio a partire dalle etichette originali dei farmaci che venivano fotocopiate e ristampate fedelmente su carta adesiva dopodiché manipolando brutalmente in modo direttantistico e quindi pericoloso il prodotto chimico avveniva il confezionamento fai da te con successiva apposizione degli adesivi contraffatti sui barattoli gli stessi venivano poi messi sul mercato spacciandoli per originali e contadini ignari che pagavano il prezzo pieno del prodotto Intensa attività di controllo della polizia stradale di Ragusa e di Vittoria nel fine settimana appena trascorso per prevenire le stragi del sabato sera sentiamo allora i risultati nel servizio Sette persone positive all'alcol test questo è il risultato dei controlli effettuati dalla postrada di Ragusa e di Vittoria venerdì sera nelle prime ore di sabato e domenica mattina sul litorale da Pozzallo a Scogliti si tratta di un vittoriese di 29 anni di un modicano di 21 per entrambi è scattata una sanzione amministrativa e la decurtazione di 10 punti dalle patenti di guida un modicano di 35 anni un 33enne ragusano e un modicano di 32 a cui sono stati decurtati 10 punti dalle patenti di guida ed è messa una sanzione penale stesse pene infine per un romeno di 25 anni e un tunisino di 33 entrambi protagonisti di due distinti incidenti stradali autonomi inoltre sono state denunciate tre persone di cui due per violazione agli obblighi di custodia poiché al momento del controllo non avevano la disponibilità del veicolo custodito ed una perché trovata con attestazione di revisione falsa sulla carta di circolazione I militari della stazione e dei carabinieri di Santa Croce e Camerina hanno denunciato due persone per abuso edilizio in un'abitazione sul lungomare di Caucana era stato fatto un ampliamento di circa 36 metri quadrati in assenza di autorizzazione della sovrintendenza i due proprietari dell'immobile due coniugi sessantenni dipendenti pubblici originari del posto sono stati denunciati per intervento edilizio abusivo aggravato e rischiano fino a due anni di arresto e un'ammenda da 15.000 a 51.000 euro c'è la pubblicità tra poco